All'arbitro e allora buon divertimento inizia Oney Nera contro l'Academy Montezilvano Inizia l'Oney alla profonda percetta l'Academy Ma sei confusionaria, ti gioco le squadre che non riescono a mettere ordine Ci prova adesso l'Oney andando in attacco Arriva la prima parata del portiere dell'Academy a parare Angolo battuto subito, conclusione, palo clamoroso colpito dall'Oney Grande occasione immediatamente per la squadra con i fratini Riconsegnato il pallone all'Oney che prova ad andare subito in porta E trova il vantaggio, il gol dell'1-0 la squadra romana Ha segnato Morosini Vantaggio Oney Nera, 1-0 Inizia lì, posizionale la barriera nel portiere dell'Oney Poi potrà batterci questa punizione Fischia l'arbitro, palla dentro Palla fuori la barriera Poi altra conclusione, altra palla mandata via Trova a ripartire allora l'Oney Prima palla in verticale, poi sombrero Non riesce l'allungo E allora contro contro piede Con l'Academy che calcia in porta Arriva la prima parata e poi la palla allontanata Vieni fra, vieni fra, vieni fra il che Adesso rapido l'Oney con la rimessa laterale Vuole provare la rovesciata Parata del portiere Poi conclusione, palla alta Montesilvano arriva L'impostazione, scusate Di quello dell'Oney Prova ad andare ancora la squadra col fratino sul fondo Palla dentro Poi ancora conclusione Ancora neutralizzato Nopalo Alzata Dentro Stai andando Venito Fautacca Niccolò Soluzioni Vai a far che Vai a far che Di trovo il tacco Se la cava il portiere dell'Oney Il giocatore col fratino Rimessa tra le battute Dall'Academy Può ripartire L'Oney ancora una volta Trova bagnato Palla che arriva per Mollo Che calcio alto Grande occasione qua per il 17 Academy che andrà con la battuta Della rimessa laterale Palla alzata Minuto 19 Sei al termine della partita Attenzione adesso Alla conclusione Che porta il 2-0 Dell'Oney Segna il 16 Raddoppia l'Oney nera Prova a scappare via Obiettivo che per noi Si avvicina Adesso sempre di più Giocata verticale Copertura Per toni Per toni La palla verso Topanda Palla per il 10 Scatta Prova la palla dentro Altra palla giocata dentro Non riesce per uscire Finisce Qui Vince l'Oney Che batte anche l'Academy Montesilvano Vince il triangolare Arriva prima Academy Montesilvano 0 Oney 2 Vince la squadra romana Un saluto E un ringraziamento Da Rocco Vivoli Di Live Sport Academy